Guardando questi jeans diresti che sono ristretti con un piccolo trucchetto? No, vero? E invece lo sono. Ti dico subito come fare, però prima clicca su questo simpatico curicino e anche su questo simbolo per farmi capire che stai già adorando questo video. Che la chiusura dei jeans sia una fila di bottoni o una cerniera, poco importa. L'unico necessario è l'ultimo bottone. Quindi afferro il passante sul cinturino dal lato del bottone e lo faccio passare attraverso. Poi chiudo i jeans come fare normalmente, comprendendo ovviamente anche il passante. Do una piccola sistemata ad eventuali pieghe e il gioco è fatto. Infine, indossando una cintura, si nasconderà perfettamente in tutto.